Che c'è? Fa male la pancia? Bella a tutti ragazzi! Bentornati in questo mio nuovo commentary Anzi, non proprio commentary In questo video, gameplay, vi volevo introdurre i miei prossimi video in futuro, ecco I miei prossimi video che metterò nel mio canale E partiamo subito, che ovviamente questo video come state guardando non sarà solo questo Ma saranno degli episodi, che dal titolo ovviamente è il mio caro MP7 In questi episodi, non so quanti saranno, vedremo un po' Parleremo, ecco, un po' di... del nostro... anzi, del mio amato MP7 Perché non so se anche voi avete la mia stessa passione, ecco Ovviamente sto giocando su MV3 La mappa è DOM, la mappa più piccola che esista su Call of Duty Modern Warfare 3 Desideravo tanto farlo E... ovviamente con il mio caro MP7 Con un fuoco rapido, se non mi sbaglio E... un po' di... di killstreak Un po' di, ecco, di specialità a cavolo Non so, non mi ricordo adesso quali ho messe Ma erano di sicuro a cavolo, perché... siccome... e... dovevo prestigiare Quindi ho fatto una partita e... e ho prestigiato purtroppo Quindi non vi aspetterete gameplay a raffica Perché... beh, anch'io devo andare avanti col prestigio, no? Ragazzi, e... e... vi accenno che... il mio... vabbè Come ho detto prima, il prossimo episodio... cioè, sarà una... una serie di episodi, ecco Di... dove parleremo un po' delle... dove parlerò Ma anche parleremo, potrei portarmi qualche ospite Parleremo un po', ecco, di... delle... delle MP7 Come è fatto, come... la sua potenza La... la migliore classe per sfruttarlo al massimo Insieme a tutte le perche, le specialità E... e... e ovviamente... la modalità Perché non... non in tutte le modalità è buono Un MP7 con... fuoco rapido e queste cose Ma... non... non... non state lì a pensare Questo è fumato... lascia un pedere, chiudiamo Ragazzi, se volete... se volete seguirmi Iscrivetevi ovviamente, questo qua ve lo dico sempre In ogni mio video Mettete un bel pollicione, come dice... come vuole il mio amico Ecco, perché mi ha chiesto se potevo dire Cioè, se lo devo... da... da... mi sono impappinato Ecco, cioè, lo devo dire, punta e basta E... e... le... dopo questi episodi che farò Parlerò, ecco, un po' di una modalità Ecco, diversa da... da tutte le altre Di quelle che vediamo in giro Anzi, non è una modalità, è una mod Che... ovviamente non DMV3 Perché purtroppo ancora non c'è Ma... DMV2 Nostro caro e atteso... anzi, aspettate Di Call of Duty Mode of War 2 Mamma mia, io lo amo dire queste parole Le mie frasi E... parleremo, ecco, di... di questa modalità... cioè Di questa mod che si chiama ProMod Che... All'inizio, ecco, era un po'... un po' schifosa Un po' bruttina Quando... quando ci giocavo Ma adesso mi ci sono veramente innamorato Scusate E... quindi dopo questi... questi episodi che farò di MP7 Parleremo un po'... cioè parlerò, ecco, un po' di... di questa mod Che... che è veramente... bella Ragazzi, non vi perdete... lo schifo che sto facendo Perché... ci rimarrò male Ragazzi, questo è tutto Scusatemi se il video è poco come era Tanto per annunciare un po' il futuro del mio canale Ragazzi, se vi è piaciuto, iscrivetevi Bye Bye Ciao Ciao